Buonasera, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telecittà. Apriamo con la cronaca. È spuntato un testimone nell'ambito dell'indagine sulla morte all'Oreo nel rodigino di un anziano travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bicicletta. Il fatto era accaduto il 17 febbraio scorso. La vittima era Gian Ettore Casarotto, di 81 anni. L'investitore dopo l'impatto era fuggito senza prestare soccorso. I carabinieri, pur mantenendo un certo riservo, si dicono fiduciosi e parlano di un'importante piega investigativa. Dunque a breve si potrebbe arrivare all'individuazione del pirata che non si è ancora costituito. Attimi di tensione ieri pomeriggio intorno alle 15 quando alcuni passanti hanno visto un ragazzino cadere nel bacchiglione. Immediato è scattato l'allarme sul posto, vigili del fuoco e polizia. Sentiamo. Una disattenzione o forse un remo che colpisce un tronco. E in un attimo l'imbarcazione si rovescia facendo finire in acqua un atleta undicenne della Padova Canottaggio, società con sede in via decorati al Valor Civile 2 all'interno degli impianti sportivi comunali della Paltana. A spaventarsi sono soprattutto alcuni passanti impegnati, complice alla giornata del sapore primaverile, in una passeggiata lungo l'argine del Bassanello, che visibilmente preoccupati allertano vigili del fuoco, personale del 118 e polizia. Anche se le temperature negli ultimi giorni si sono alzate, quelle dell'acqua del fiume si aggira intorno ai 7 gradi, alto dunque il rischio di ipotermia se il bagno si prolunga oltre i 5 minuti. La temperatura del corpo scende e diventa difficile compiere movimenti come il nuoto. Ieri però nulla di tutto ciò è accaduto, all'arrivo dei soccorsi infatti il ragazzino era già in salvo. L'incidente è accaduto a pochi metri dal pontile e lui da solo è riuscito a guadagnare la riva, senza riportare alcuna conseguenza sul piano della salute. Il ragazzo sta bene, spiega Alessandro Donadello, tecnico federale allenatore della Padova Canottaggio. Non è cosa rara cadere in acqua in praticando questo sport. È già successo e continuerà ad accadere, ma questa volta i passanti sembrano essersi davvero spaventati, forse più del dovuto. In uno sport d'acqua venire a contatto con questo elemento è naturale e la sicurezza è comunque alta. L'importante, conclude il tecnico, è non demonizzare il canottaggio, sport che in questo periodo sembra fortunatamente essere stato riscoperto dai padovani. Chiede giustizia Maurizio Pedona, il figlio della donna morta alla fine di gennaio all'ospedale di Sandona di Piave dopo un ricovero avvenuto in seguito ad un malore. Il figlio sta preparando una causa legale a fronte di una denuncia pesantissima. Secondo l'uomo, la madre di 73 anni sarebbe morta perché nel fine settimana all'ospedale di Sandona non applicano i pacemaker, ma solo una macchinetta provvisoria. Interpellata nella vicenda, l'ASL 10 sta adesso effettuando delle verifiche su quanto è accaduto e sulla denuncia dell'uomo. Una donna nega un rapporto sessuale al marito e viene picchiata e violentata. Una storia terribile che è accaduta in un comune nella provincia di Treviso. Sentiamo. Dalla provincia di Treviso una storia drammatica di violenza tra le pareti domestiche. Una donna di 52 anni che aveva rifiutato un rapporto sessuale con il marito è stata selvaggiamente picchiata e poi violentata. L'uomo di nazionalità brasiliana ha infierito sulla moglie con calci e pugni e poi, sempre con la violenza, ha abusato del suo corpo. Una storia davvero raccapricciante che fortunatamente si è conclusa con l'arresto del marito violento. Dopo la brutale aggressione, la donna con tutte le sue forze è riuscita a raggiungere l'ospedale dove ha ricevuto le cure sanitarie e ha denunciato il marito, l'uomo che ha sposato e con il quale doveva condividere una quotidianità fatta d'amore e di una vita serena. Immediato l'intervento dei carabinieri, ora l'uomo dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni. Si trova ai domiciliari. La vittima e i figli sono stati trasferiti in un altro luogo. Si trova in prognosi riservata ed è tenuta in coma farmacologico. Evelyn Baccega, la 35enne di Piombino Dese, che l'altro giorno intorno alle 18 stava tornando in sella alla sua moto, una Ducati, da Castelfranco Veneto dove aveva appena festeggiato il suo compleanno. Improvvisamente però nella strada regionale Castellana, all'altezza di Resana, una Golf le ha tagliato la strada. L'impatto è stato violentissimo. I primi a soccorrerla sono stati i genitori che la seguivano in auto, trasportata all'ospedale di Cittadella, ora versa in gravissime condizioni. Dal 2006 continuava a percepire la pensione del padre deceduto, pari a circa 60 mila euro. È stato però scoperto dalla Guardia di Finanza di Verona e denunciato per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. L'uomo ogni mese prelevava il vitalizio accreditato su un conto corrente cointestato che anni fa aveva aperto insieme al padre, conto corrente che adesso è stato sequestrato. Due corrieri della droga nigeriani sono stati arrestati nelle scorse ore dalla squadra mobile padovana, sequestrata oltre un chilo e mezzo di cocaina purissima che era nascosta nello stomaco dei due uomini. Sentiamo. In aereo dalla Nigeria a Milano, poi il treno destinazione Padova, è il viaggio degli ingoiatori, vere e proprie valigie umane cariche di droga, sostanza purissima, divisa in ovuli e ingoiata, celata nello stomaco per eludere i controlli. Sono due corrieri della cocaina africani arrestati ieri a Padova dalla squadra mobile, il primo durante un controllo in via Savelli, l'altro durante un blitz in un appartamento di Tencarola. Sì, non è la prima volta, sono corrieri ingoiatori, quindi delle specie di valigie viventi che arrivano in luoghi prestabiliti. La zona di via Savelli è una zona notoriamente poi battuta da noi in quanto vi sono alcuni stabili occupati, insomma, da una comunità abbastanza consistente di nigeriani e quindi nel caso di specie uno di essi aveva ovviamente anche un atteggiamento molto sospetto, molto nervoso, che è tipico di quei soggetti da poco arrivati in Italia e carichi di droga. Paulinus Wilfred, 36 anni, residente in via Savelli, con un permesso di soggiorno valido fino al 2015, è stato tradito dal suo nervosismo. In tasca aveva alcuni ovuli di cocaina, ma la maggior parte era nel suo stomaco, 63 involucri, circa 7 atti di sostanza purissima, che una volta tagliata sul mercato sarebbe diventata 4 volte tanta. È stato l'uomo poi ad indicare un appartamento di Tencarola in via Padova, si tratta di una casa dove i corrieri fanno tappa per evacuare gli ovuli. All'interno gli uomini della squadra mobile hanno trovato Obinezu Festus, 38enne clandestino. Le laste del pronto soccorso hanno rivelato che nel suo stomaco erano stipati 96 involucri di cocaina, quasi un chilo. Sugli involucri anche una serie di marchi, indicazioni per lo smistamento della sostanza stupefacente, destinata a partite diverse. Sì, delle siglette, evidentemente sono ovuli di partite diverse di cocaina che arrivano ovviamente in Nigeria e di lì poi vengono attraverso questi corrieri trasferite in varie parti d'Europa. Un diciottenne trevigiano è stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco Veneto con oltre un etto di hashish del quale stava vendendo una parte ad alcuni coetanei nella piazza del comune della marca. Il giovane studente è incensurato e sospettato dall'arma di essere un pusher che fornisce di droga ai giovani della piazza castellana. I militari lo hanno visto confabulare e poi passare dello stupefacente ad un ragazzo che stava insieme ad altri due amici. È stato così bloccato e perquisito in un calzino. Gli sono stati trovati dieci ovuli contenenti complessivamente 120 grammi di hashish mentre in una tasca aveva 300 euro in contanti e due telefoni cellulari. Questa mattina a Roma si è svolto un incontro sul futuro delle tv locali in Italia un settore che sta vivendo un momento molto difficile e che vede il prossimo futuro a rischio. Erano presenti la maggior parte degli editori italiani, le associazioni di categoria e anche molti esponenti pubblici. Sentiamo qual è la situazione. Si è svolto a Roma l'incontro organizzato da Airanti Corallo e associazioni tv locali FRT sul futuro delle televisioni locali in Italia. Il problema principale del settore è rappresentato dalla mancanza di frequenze. In questi mesi, infatti, il governo attraverso un'asta ha venduto canali attualmente occupati da molte tv locali. Le frequenze vendute sono state acquistate da compagnie telefoniche. A breve dovranno essere consegnate e di fatto dovranno essere liberati gli spazi occupati. Le televisioni attualmente operanti saranno spostate attraverso dei bandi di gara che però non daranno diritto a tutte le emittenti di continuare a lavorare. Lo spazio frequenziale è stato notevolmente ridotto e chi non passerà la gara di fatto cesserà l'attività ricevendo un indenizzo. Ne è un esempio la regione toscana dove alcune emittenti di carattere storico a livello territoriale sono rimaste fuori gioco. Nell'incontro romano è stato discusso anche il problema di questo indenizzo. La cifra totale è stata ricavata dalla vendita tramite asta ma non è sufficiente nemmeno a coprire i costi che le emittenti, come nel Veneto, hanno già supportato per il passaggio al digitale terrestre. Tra l'altro questa cifra, nel corso di pochi mesi, tra le ultime mosse del governo precedente, è stata ulteriormente abbassata. Una vera beffa italiana che mette a rischio le imprese presenti da anni e il lavoro di migliaia di persone impiegate nel settore televisivo. All'incontro era presente il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, il dottor Massimo Vari, che si è dichiarato vicino al settore e pronto a un dialogo con la categoria, ma sulla testa degli editori e dei lavoratori incombe il bando che non lascia margini a decisioni o trattative. Il settore in questo momento risulta bloccato, nessuna previsione futura, nessun investimento che risulterebbe fatto al buio e un punto di domanda sull'attività futura. Si sono finti corrieri ed hanno truffato un negozio ritirando merce per migliaia di euro. Vittima del tranello, un negozio di calzatura nel centro storico di Verona. Due giovani con accento napoletano hanno assistito alle fasi di scarico e consegna della merce da parte dei veri corrieri e poi sono entrati in azione facendo scattare la truffa. Si sono presentati come corrieri, facendo riferimento alla consegna venuta dieci minuti prima, hanno spiegato di doverla ritirare per un errore di scambio merce. Così, con tutta tranquillità, i finti corrieri si sono impossessati di 38 colli contenenti borse e scarpe griffate per un valore di 50 mila euro e si sono allontanati a bordo di un furgone. Scoperto a Bassano del Grappa un gruppo di picchiatori. I quattro entravano in azione su ordinazione secondo un listino prezzi. Sentiamo. Sistemavano questioni in sospeso, davano lezioni e avvertimenti. Per contattarli bastava comporre un numero di telefono, poi, come da menù, scegliere il trattamento da infliggere rivali e nemici, il tutto regolato da un listino prezzi. Un servizio noto a Bassano del Grappa, dove il gruppo, composto da quattro extracomunitari dell'Est, risiedeva e aveva dato vita al proprio giro d'affari. E sembra che le richieste non mancassero. A rivolgersi a loro, in passato, anche un 17enne vicentino, che voleva vendicare le avance fatte alla propria ragazza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Bassano del Grappa, il minorenne avrebbe assoldato il gruppo di picchiatori per dare una lezione al rivale in amore, un compaesano ventenne. La resa dei conti lo scorso 9 ottobre, quando i quattro mandarono il corteggiatore all'ospedale con 40 giorni di prognosi. Per picchiarlo usarano il palo di un segnale stradale di velto per l'occasione. All'ospedale finirono anche alcuni amici della vittima feriti nel tentativo di soccorrerlo. Mesi di indagini hanno permesso ai militari dell'arma di ricostruire l'organigramma della squadra punitiva, pronta ad entrare in azione per compiere ogni tipo di violenza a pagamento. Agli arresti domiciliari sono finiti due fratelli albanesi e due bosniaci, tutti dai 22 ai 27 anni, per loro l'accusa di lesioni personali aggravate e rapine aggravata. Al momento gli investigatori contestano loro l'episodio di ottobre, ma sarebbero in corso certamente anche su altri casi. Furto in un appartamento di Volta Barozzo. Verso mezzogiorno di ieri, i gnoti si sono arrampicati fino al secondo piano, hanno scassinato la porta finestra e si sono introdotti nell'abitazione. Una volta dentro hanno rubato gioielli per un valore di circa 15 mila euro e 5 mila euro in contanti. Nel momento del furto alcuni testimoni avrebbero notato una smart con a bordo due individui sospetti. Si indaga in queste ore dunque alla ricerca dei responsabili del furto. I rialzi continui dei carburanti in questo periodo pesano sugli alimentari per più di 200 euro. Sentiamo perché. La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, afferma che i continui aumenti di benzina e gasolio, oltre a far volare in alto il prezzo del pieno per il quale gli italiani spendono ben il 12% in più della media europea, ma rischiano anche di stravolgere e in modo decisivo il carrello della spesa delle famiglie. Nell'ultimo anno, infatti, ogni famiglia ha dovuto mettere in conto 470 euro al mese per trasporti, carburante ed energia, un budget che ha superato quello per cibo e bevande, che è fermo a 467 euro mensili. Ora il rischio, sottolinea la CIA, è quello di un ulteriore indebolimento della spesa per gli alimentari, proprio a causa degli ennesimi aumenti del carburante. Con la benzina ormai sopra l'euro e 80 al litro e il gasolio oltre un euro e 70, l'aggravio di spesa sull'anno è di quasi 450 euro soltanto per i costi diretti. Vuol dire una vera e propria sangata sui consumi per la tavola delle famiglie, ma anche per il settore primario i rialzi dei carburanti sono un colpo micidiale ai bilanci aziendali. I listini del gasolio agricolo, rileva la CIA, in meno di due anni sono cresciuti tantissimo, segnando un incremento record del 130%, il che significa un costo aggiuntivo di oltre 5.000 euro d'impresa. Ecco perché è indispensabile agire al più presto con adeguate agevolazioni, per cercare di evitare il collasso di un comparto che già sta pagando per i danni causati dal maltempo. Appena ha saputo che i familiari della defunta avrebbero voluto spargere le ceneri in laguna, nonostante la data fosse già stata fissata, un parroco di Marghera si è rifiutato di celebrare il funerale. Secondo il sacerdote, infatti, la decisione di spargere le ceneri dimostrerebbe una volontà contraria alla fede cristiana. Contrariati i parenti della donna, che hanno riferito subito a un giornale locale, che quello era l'ultimo desiderio della defunta. La donna, infatti, nativa di Burano, voleva che le sue ceneri fossero disperse nella laguna davanti all'isola. Ai congiunti, dispiaciuti per la vicenda, non è rimasto altro che rivolgersi ad un'altra chiesa, quella del cimitero di Mestre, dove domani si svolgeranno i funerali. Confermato giovedì 1 marzo lo sciopero generale dei trasporti per protestare contro il decreto Cresci Italia del governo Monti. Sentiamo. Si preannuncia un giovedì difficile, quello del 1 marzo per i fruitori di autobus e tram. È confermato, infatti, per quella giornata lo sciopero indetto da CGL Cisle Will per protestare contro le previsioni del decreto Cresci Italia del governo Monti. A Padova, dunque, i mezzi pubblici si fermeranno in segno di disapprovazione del decreto per ben quattro ore. Gli autobus e di tram non saranno attivi dalle 8.30 alle 12.30. I pullman Sita, invece, non effettueranno il servizio del trasporto passeggeri dalle 8.30 alle 12.00. Infine, sistemi territoriali non effettuerà corse dalle 17.40 alle 21.40. Nonostante le ripetute richieste del sindacato hanno scritto in una nota le maggiori sigle confederali dei sindacati dei trasporti pubblici, il governo ha volutamente ignorato ogni confronto, accelerando le liberalizzazioni senza regole e istituendo un'autority alla quale sono affidate funzioni proprie del governo e delle istituzioni locali. Inoltre, CGL Cisle Will sostengono che la manovra non contenga alcuna politica dei trasporti né alcuna azione per cambiare la situazione di un disequilibrio tra le modalità di trasporto. Situazione che sta alla base delle difficoltà del nostro Paese. Inoltre, puntualizzano, non c'è certezza di risorse destinate e permangono tagli ai servizi. Manca un progetto industriale che punti a superare l'enorme frammentazione del settore. Non ci sono strumenti per la gestione delle crisi e delle ristrutturazioni. Una situazione, dunque, secondo i maggiori sindacati, che metterebbe a rischio la mobilità collettiva. E a proposito dello sciopero del 1 marzo, ci sono degli aggiornamenti. Circoleranno in modo regolare i treni nazionali. Per i treni regionali, ferrovie dello Stato, ricorda che lo sciopero non incide sulle fasce orarie più frequentate dai pendolari nei giorni feriali. 6, 9, 18, 21. Incendio nella notte nell'azienda di autodemolizioni Fratelli Artuso di Mestre. Bruciati copertoni, combustibili, autovetture e vernici. Le fiamme, inoltre, hanno provocato una grossa nube di fumo nero. Il rogo è stato fortunatamente domato dai vigili del fuoco. I tecnici dell'ARPA invece hanno accertato che non ci fossero nell'aria delle sostanze inquinanti prodotti dalla combustione. Chiediamo l'intervento del prefetto di Venezia, altrimenti siamo pronti a mettere in atto un blocco totale del traffico sulla tangenziale e sulle strade che portano a Venezia, Mestre e Porto Marghera. Gli autotrasportatori veneziani scendono dunque sul piede di guerra e minacciano azioni di protesta, qualora non si risolva in tempi brevi la questione relativa ai disservizi all'interno del Terminal Tiv di Porto Marghera. Le cooperative, i consorsi, gli autotrasportatori che sono aderenti a Confartigianato, Trasporti Veneto, FITA, CNA Veneto e Fai Veneto, dopo l'astensione dal lavoro nell'area container del Terminal Tiv, proclamata per alcuni giorni nel dicembre scorso, ora chiedono l'intervento del prefetto di Venezia per l'apertura di un tavolo di confronto al quale vengono invitate anche le controparti Tiv, Vecon, spedizionieri e autorità portuale. E ora parliamo del tempo. Il meteorologo di Trebi Meteo afferma che questo mese di febbraio è stato il più caldo degli ultimi 22 anni. Sentiamo. Il meteorologo di Trebi Meteo, Francesco Nucera, ha rilevato che questo mese di febbraio, ormai finito, sarà ricordato come il più caldo degli ultimi 22 anni. In questi giorni, sulle Alpi, a mille metri, sono stati raggiunti i 20 gradi, valori tipici tra giugno e luglio. Per trovare un febbraio così caldo bisogna tornare a 1990, quando al nord il termometro raggiunse i 25 gradi, ma fece caldo anche nel 98 e nel 2000. Per questa settimana, il meteorologo prevede una settimana tipicamente primaverile su tutta la penisola, con temperature in aumento anche di 8-10 gradi rispetto ai valori attuali. E l'apice del caldo sarà raggiunto quasi ovunque venerdì. Questo caldo inconsueto per il mese di febbraio è generato da un invadente anticiclone. Nei giorni scorsi, nelle vallate alpine, si sono rilevati fino a 25 gradi e a Bolzano il termometro ha raggiunto i 22 gradi e mezzo, un nuovo record mensile per il mese di febbraio. Ma oltre all'alta pressione, secondo il meteorologo, a complicare la situazione c'è anche l'aridità del terreno. Al nord, infatti, non piove da parecchio tempo e il terreno è piuttosto secco. Quindi, non essendoci acqua che evapori e raffreddi l'aria, le temperature si alzano. E ora vediamo il tempo previsto per domani, mercoledì 29 febbraio. Generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo delle leggere velature in transito e anche qualche residuo addensamento al mattino. Al primo mattino potranno ripresentarsi anche alcune foschie o qualche banco di nebbia in pianura e lungo la costa. Per quanto riguarda invece le temperature, saranno il leggero aumento in pianura, in entrambi i valori estremi, rialzi anche marcati invece in montagna. Con questo è tutto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro una buona serata. Grazie per la visione.